In questo tutorial vedremo come impostare dei punti di vista prospettici e come salvarli attraverso l'uso della palette che si chiama scene. Innanzitutto vediamo quali sono gli strumenti che ci sono in SketchUp per costruire delle viste all'interno del progetto che ho disegnato. Gli strumenti sono questi tre. Il primo si chiama Posizione Telecamera, Position Camera, che mi permette appunto prendendo questo strumento e andando a fare un clic all'interno in questo caso vado a fare un clic all'interno di questo spazio cioè tenendo il clic sul pavimento vado a posizionare appunto una telecamera ad una certa altezza c'è scritta su WCB 247 che ovviamente posso andare a cambiare. Per esempio scrivo 220, do l'invio e sto spostando questa altezza della mia telecamera. Come vedete adesso l'icona ha questo simbolo dell'occhio il che vuol dire che automaticamente dal primo strumento sono passata al secondo e adesso tenendo premuto col sinistro posso andare appunto a ruotare questa telecamera che è fissata in quel punto. Un altro strumento utile per andare a costruire un punto di vista ben preciso è quello che mi permette di ampliare o diminuire il mio campo visivo. Se vado in questa icona, questa dello zoom, faccio un clic adesso nel WCB c'è scritto campo visivo 65 sono i gradi impostati ora e posso cambiarli come ho fatto anche prima 50 invio diminuirà 70 invio appunto lo sto aumentando. Un ultimo strumento utile può essere questo che si chiama Walk mi permette, tenendo premuto col sinistro e spingendo in questo caso verso il basso mi permette di arretrare, quindi cambiare la prima posizione quella che avevo impostato con il position camera finché non trovo un ostacolo, si ferma da solo mi metto un simbolo di divieto se alle mie spalle c'è un muro. A questo strumento sono associati alcuni strumenti aggiuntivi che vedete scritti in questa barra inferiore. Se a questo punto il punto di vista è stato costruito in modo soddisfacente lo vado a salvare. Per salvarlo vado ad aprire una palette che si trova sotto il menu Windows che si chiama Scena e mi basterà cliccare su un più per andare a salvare appunto questo punto di vista ma non solo. Se non vedete questa parte inferiore basta cliccare su questo e come vedete cliccando su più ho creato una nuova scena con questo punto di vista ma ho salvato in realtà tutta una serie di proprietà che sono appunto messe in questa lista. Appena clicco sul più creando questa scena mi è venuta questa scritta qui sopra ovviamente la chiamo Scena 1 così chiamerebbe se ne facessi altre e le numererebbe in modo progressivo. Quindi adesso se mi muovo con lo zoom cambio il mio punto di vista se clicco qui sulla scritta Scena 1 rientro in quella data prospettiva che ho salvato. Se voglio cambiare questo punto di vista per esempio voglio ruotare attraverso l'uso del look around per tenere in memoria questo cambiamento che ho fatto devo andare ad aggiornarlo cioè cliccare qui e aggiornare che vuol dire che adesso se cambio il mio punto di vista mi sto spostando con l'orbit e clicco di nuovo su Scena 1 appunto sono rientrata nell'ultimo punto di vista da me impostato le scene se ne possono ovviamente salvare quante se ne vogliono quindi cambio il mio punto di vista e clicco di nuovo su più e adesso avrò queste due scene e così via se ne voglio cancellare qualcuno basta cliccare sul meno tra una scena e l'altra SketchUp predispone un percorso quindi un'animazione che sarà possibile esportare poi automaticamente attraverso il comando export animation video grazie a tutti grazie a tutti